Sì, è nata questa idea perché sapevo che loro venivano qua e venivano chiusi con cinque difensori, tre centrocampisti e quando trovi squadre totalmente chiuse, secondo me hai bisogno di gente tecnica che può determinarti lì in mezzo a spazi chiusi, qualche giocata importante e per quello è stata fatta la scelta di Mungo perché sapevo che non avremmo avuto profondità contro loro totalmente chiusi e la scelta è proprio per questo, per avere un giocatore più tecnico che all'interno di quegli spazi chiusi potesse con la sua tecnica darci una mano certo che poi da un giocatore come Mungo tutti ci aspettiamo che prima o poi determini una partita e siamo in attesa di questo perché è un giocatore importante, non è che ho messo in campo un giocatore che è sconosciuto e quindi la mia scelta è stata per quello, eravamo la terza partita e secondo me Mungo che era un giocatore fresco ci stava di inserirlo oggi nella partita così, perché no? Faccio fatica a capire il contrario nel senso che è un giocatore che non ha giocato le due partite precedenti, è un giocatore che era fresco, è un giocatore importante non capisco, non so perché battete su questo punto che non credo che sia questo il problema oggi abbiamo perso perché onestamente abbiamo giocato male e più c'è stato un pizzico di sfortuna nell'occasione del gol queste sono partite purtroppo che subisce un tiro in porta come abbiamo subito noi abbiamo perso la partita, in queste partite qua devi giocare bene, devi giocare meglio di quello che abbiamo fatto noi soprattutto nella fase offensiva e quindi l'analisi è anche semplice, non dobbiamo nasconderci dietro le scelte o nasconderci, abbiamo giocato male, la fase offensiva non è stata buona e quindi non dobbiamo far altro che metterci là sotto a lavorare, non è morto nessuno e andare avanti assolutamente sì, dal punto di vista della prestazione abbiamo fatto un passo indietro però questo non cambia, ci sta in un campionato, non è una cosa così eccezionale è una cosa che può capitare, comunque questi ragazzi sono sempre loro, hanno quasi sempre giocato gli stessi non è una scusa ma percepivo prima la partita che c'era un po' di stanchezza e quindi in una fase del campionato così, alla terza partita, una partita così contro una squadra chiusa in cui dovevi star bene fisicamente, noi non eravamo brillanti e abbiamo perso per questo fondamentalmente Buonasera mister Io invece volevo chiederti, dopo la partita contro la Ternana, in questi giorni che ci hanno separato da Teramo-Ternana fino a Teramo-Virtus-Francavilla, il refrain è stato non sarà come all'andata, cioè ok, altra sconfitta con la Ternana ma vedrete che adesso cominceremo non faremo gli stessi errori del girone in andata, o meglio, non perderemo tanti punti con le piccole invece alla prima è andata anche peggio, perché all'andata con la Vittus-Francavilla il Teramo aveva pareggiato, questo si era perso Sì, c'è una considerazione non so la risposta, nel senso che è una considerazione giusta ma non so cosa cambia, nel senso che dobbiamo andare avanti io non avevo fatto proclami dopo la partita con la Ternana io avevo analizzato la partita per quella che è stata secondo me e non avevo detto adesso vedrete il Teramo, io non ho detto niente di questo che hai detto tu No, immagino che fosse stato un auspicio, insomma, era un auspicio che il Teramo non ricadesse esattamente negli errori che aveva fatto il girone in andata che poi erano costati tanti punti e posizioni in classifica Ma allora, non so quello che potete voi immaginare io posso analizzare la partita, posso analizzare il fatto che contro le squadre chiuse abbiamo più fatica a trovare il gioco, quello sì, ma l'ho detto già una volta credo che sia una questione di caratteristiche quando trovi squadre chiuse hai bisogno di un maggiore palleggio non si può pensare di andare, partire l'azione a destra e concludere l'azione a destra quindi per forza di cose devi con il palleggio muovere gli avversari per fare il palleggio nella metà campo avversaria ha bisogno di giocatori tecnici noi per caratteristiche abbiamo incursori, abbiamo incontristi a centrocampo e quindi facciamo un po' fatica contro squadre chiuse questa è l'analisi tecnica e oramai è un refrain come l'hai chiamato tu perché quando incontriamo squadre chiuse facciamo sempre fatica poi oggi comunque è andata storta perché abbiamo preso un tiro in porta e quello c'è da ammetterlo perché non sempre poi le partite vanno male perché abbiamo avuto un'occasione incredibile nel primo tempo come è stato con la Paganese se facciamo quel gol lì magari la partita cambia e quindi non bisogna affrettarsi nei giudizi so che tendenzialmente siete molto veloci nel giudicare nel giudicare, capisco ma da quest'altra parte c'è grande equilibrio perché non è morto nessuno questi sono ragazzi che hanno sempre dimostrato attaccamento e su di loro io sono convinto che faremo bene da qua alla fine ho massima fiducia in loro Mbisè, perdonami, scusami hai detto dolosi nel giudizio? no, nel giudizio siete molto veloci a giudicare ah ok, perdonami dal punto di vista proprio caratteriale della mentalità mi aspettavo qualcosa in più da parte dei ragazzi però giocano sempre gli stessi quindi a volte non è facile ricaricare una partita perché è molto più facile fare la partita che ha fatto il Francavilla è molto più facile chiudersi davanti alla propria area di rigore e distruggere il gioco avversario anziché dover costruire le azioni dover trovare azioni, spazi chiuse è molto più complicato e quindi comunque hai bisogno di uno sforzo maggiore per far tu la partita e quindi mi aspettavo qualcosa in più ma alla terza partita ho avvertito un po' di calo di tensione da parte loro nel senso che non siamo riusciti a riaccendere il fuoco dentro come questa partita richiedeva perché era una partita difficile l'avevo detto ieri e quindi sì se riesci a farmi una previsione per quello che succederà nelle prossime due settimane darmi qualche consiglio così magari riesco a no no ci mancherebbe il discorso è che a priori è molto facile dare dei consigli io la prima cosa che ho detto nell'analizzare questa partita è che abbiamo perso perché abbiamo giocato male e perché abbiamo avuto un pizzico di sfortuna questa è stata la mia motivazione quindi concordo con quello che dici non ci tiriamo indietro dalle nostre responsabilità il fatto dell'altra analisi che hai fatto per me è sbagliato perché per me ogni partita va giocata alla morte farò fatica credo in futuro a ragionare questa partita snobbiamola perché poi la prossima è più importante per me la giusta mentalità è riuscire a dare il meglio e il meglio va dato ogni giorno poi tra l'altro non solo la domenica quindi quella è la mia idea, rimane la mia idea ci siamo giocati la partita con la Ternana oggi abbiamo provato non abbiamo giocato bene e capita e perdi le partite grazie a tutti Grazie.